Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi continuiamo a parlare di novità presentate al salone della simulazione del sim racing all'ADAC 2024 ragazzi e quest'oggi mi concentro su SimMagic perché alcuni di voi già mi hanno chiesto a Fabri SimMagic che cosa ci hanno presentato, scopriamolo insieme allora SimMagic ragazzi introduce una nuova base Direct Drive Alpha Evo, questa base che non sostituisce già la serie Alpha esistente ma viene a completarla offrendo maggiore connettività e compatibilità con il suo nuovo sistema MacDoc che consente di montare e smontare rapidamente i display tra la base e i volanti supportati utilizzando magneti per un'installazione rapida e senza bisogno di smontare viti eccetera tornando sulla base l'Alpha Evo è progettato per essere compatta, ideale per configurazioni che hanno spazio limitato la base è anche dotata di numerose opzioni di connettività come hanno mostrato durante l'evento tuttavia SimMagic ancora non ha comunicato nel prezzo e nella data esatto di lancio perché ancora la base è in fase di sviluppo però si sono visti dei led ragazzi veramente che fanno intendere che oltre a abbellirlo potrebbero essere utilizzati ad esempio per indicatori di giri del motore eccetera comunque molto carino quello che si è visto passiamo ai volanti personalizzabili con il sistema Zeus GT e il sistema A Plus praticamente SimMagic offre una gamma di opzioni per la personalizzazione di volanti proprio attraverso questo sistema A Plus dove gli utenti potranno scegliere tra diversi modelli di volanti sia GT che Formula con opzioni di materiali che vanno dall'alcantara fino alla pelle e le configurazioni sono veramente pazzesche ragazzi si parla di GT da 310 o 320 mm GT aperti da 300 mm GT a forma di D da 300 a 320 mm rotondi da 300 mm con materiali come alcantara oppure superfici drift ultra fibra che già ragazzi è fantastico volanti rotondi da 300 mm e tutti questi volanti potranno essere combinati con il modulo Zeus GT di cui vi parlavo che consente la personalizzazione delle palette del cambio e gli utenti potranno scegliere tra configurazioni con due o tre palette inclusi paddle analogici per la frizione o aggiungere moduli di cambio push-pull ed sarà possibile anche selezionare il tipo di adattatore quick release infatti si potrà scegliere tra il sistema MagLink classico di Simmagic oppure un sistema che supporta la classica connettività USB-C parliamo di questo Mad Dog Dashboard Simmagic quindi ha sviluppato questo sistema Mad Dog che permette di montare display su volanti o su basi come l'Alpha Ivo ad esempio semplicemente con l'ausilio di magneti questo sistema quindi permette di passare rapidamente dal montaggio alla base direttamente ai volanti senza come dicevo l'uso di attrezzi i display saranno disponibili in versioni da 3 e 5 pollici e saranno compatibili con tutti i nuovi volanti ovviamente presentati incluso anche i volanti formula Simagic non si ferma qui e presenta già disponibile sul sito ufficiale un set di pedali entry level la P500 che si mette al di sotto di quelle che sono la P1000 già conosciuta e la P2 sorella maggiore con un prezzo di partenza davvero molto interessante si parla per due pedali di 199 euro il pedale del freno utilizza una cella di carico da 100 kg mentre la frizione potrà essere richiesta in opzione a 59 dollari muniti di sensori di all magnetici che conosciamo bene il set offre diverse opzioni di regolazione per la posizione e l'angolazione dei pedali ed è realizzato in alluminio include anche un supporto a parete utile per configurazioni da scrivania quindi ragazzi Simagic hanno pensato a tutto e stanno veramente ampliando anche il loro mercato quindi un'azienda che vede avanti proprio per vendere di più e produrre di più e innovare bene Simagic che presenta un prototipo di active pedal entrando così nel mercato emergente di questi pedali attivi per appunto i simulatori di guida il pedale utilizza una vite senza fine e presenta un design più alto rispetto alla concorrenza per adattarsi meglio ai vari cockpit senza interferenze cioè se vediamo l'active pedal di Simcube è enorme e anche mozza se non sbaglio è enorme invece il prototipo presentato da Simagic è sviluppato in altezza proprio per venire incontro per chi non ha la possibilità di avere un rig che abbia abbastanza spazio a disposizione infatti una caratteristica di questo nuovo active pedal è il sistema a pulegge e a cinghe che collega il motore alla vite senza fine sviluppato per eliminare eventuali rumori e artefatti indesirati riscontrati a quanto pare da altri modelli questo active pedal però ragazzi è ancora in fase di sviluppo e non sarà disponibile prima della seconda metà del 2025 infatti Simagic non ha fornito ulteriori dettagli specifici indicando che il prodotto necessita ovviamente di ulteriore lavoro per il lancio e anche del software da quello che si è capito non finisce qua perché Simagic ha esposto al salone questo per gli appassionati di camion Eurotrack Simulator mostrando una base specifica appunto per camion attualmente in sviluppo la base presenta delle caratteristiche che la fanno assomigliare davvero a basi con controlli reali di camion offrendo un'esperienza di guida ancora più immersiva e durante l'evento quando è stato chiesto ulteriori informazioni in merito soprattutto sul volante che non è stato fatto vedere i rappresentanti di Simagic hanno sorriso lasciando intendere che il prodotto esiste ma non è ancora pronto per essere mostrato al pubblico quindi ragazzi riepilogando e parlando di disponibilità i nuovi prodotti Simagic inclusi i volanti personalizzati l'Alpha Evo, i display MacDog e la base per camion sono previsti come dicevo 2025 invece per quanto riguarda la P500 è già disponibile sul mercato in conclusione Simagic continua a rafforzare la sua posizione nel settore dei simulatori di guida puntando su innovazione e personalizzazione per soddisfare ovviamente le nostre esigenze da SimRacer ragazzi devo fare un plauso perché le novità presentate all'ADAC SimRacing Expo 2024 di Simagic offrono veramente una prima molto promettente di ciò che l'azienda ha in servo per il futuro e questo ovviamente giova a noi perché aumenta la competizione sul mercato quindi ragazzi se queste novità vi sono piaciute come al solito vi chiedo un pollicino in su ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti non esitate ovviamente ad iscrivervi tanto è gratuito noi come al solito ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao! Grazie a tutti!